Formare i bambini al linguaggio della legalità sin dalla prima età scolare. Il progetto La Scuola e la Città ha coinvolto 43 istituti cittadini per educare i giovanissimi alunni a riconoscere le pratiche illegali nei contesti quotidiani. Un lavoro portato avanti in collaborazione con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Più che un'iniziativa è una progettualità che è andata avanti nel corso dell'anno. Adesso siamo ai primi risultati, ai primi prodotti di un incontro, perché mi piace chiamarlo incontro, tra gli agenti, coloro che di solito hanno il compito di essere tutori dell'ordine, della legge, delle regole e naturalmente della sicurezza e i ragazzi che spesso invece non sono abituati a vedere in queste persone degli amici, ma al contrario dei controllori. L'incontro e la gestione insieme di alcune attività con la Guardia di Finanza, con la Polizia di Stato, con la Polizia Municipale e con i Carabinieri ha fatto sì che passati tra i banchi i tutori della forza dell'ordine diventassero degli amici. È l'unico modo per interiorizzare le regole, sentire che fanno parte di te. Al Teatro dei Piccoli di Forigrotta, nella giornata conclusiva, sono stati presentati i lavori realizzati durante i percorsi di formazione in un incontro collettivo di confronto sulle diverse esperienze. Tutti vogliono che i giovani siano più civili, ma nessuno investe sull'educazione civica dei giovani. Noi abbiamo attivato percorsi di educazione civica per le bambine e bambini della nostra città. Maestri d'eccezione sono stati i tutori dell'ordine pubblico, coloro i quali difendono il valore della città attraverso le regole. Forze dell'ordine che ringrazio, a partire dalla Polizia Locale di Napoli, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri. Quelle divise che strada sono dei veri e propri angeli che ci richiamano al rispetto delle regole e che è bene incontrare prima, quando si è piccoli e non dopo, diventando protagonisti invece di episodi più gravi. Questa giornata nel Grande Teatro dei Piccoli, nella mostra d'Oltremale, vuole essere il punto di conclusione che in realtà è un punto di rinnovo di un progetto che siamo intenzionati a ripetere e ad ampliare su tutto il territorio cittadino.